buongiorno ragazzi bentornati in un nuovo video quello di oggi è il video di cosa abbiamo mangiato questa settimana il video dello scorso sabato è stato molto apprezzato per cui vi ringrazio allo stesso modo ha ricevuto anche qualche critica e vorrei ringraziare tutte coloro che mi hanno dato dei preziosi consigli di fatti ci tengo a precisare che veramente ho ponderato pensato e apprezzato molto tutti i commenti che ho ricevuto dove mi veniva consigliato di integrare più legumi probabilmente col fatto che maria allergica ceci e lenticchie ho tralasciato un po' la parte dei legumi quindi ho molto apprezzato tutte coloro che mi hanno consigliato di aggiungerne un po' alla nostra alimentazione nonostante insomma cerco di bilanciare il nostro menù quindi ci tengo sempre a precisare che noi mangiamo carne uova pesci carboidrati ovviamente io cerco di impegnarmi variare il più possibile e sono convinta che ognuno di noi segua alla fine le preferenze della famiglia ma io sono aperta a nuove ricette e cerco sempre di migliorarmi per cui ringrazio calorosamente veramente chi con un commento è riuscito a darmi qualche consiglio utile e molto apprezzato allo stesso modo ci tengo a precisare per evitare di nuovo polemiche come nello scorso video che se trovate comunque un'alimentazione che non vi è gradita mi dispiace veramente mi dispiace molto però ecco noi ci troviamo bene comunque con gli alimenti che cucino e nonostante si possa sempre migliorare alla fine la nostra alimentazione è questa quindi se avete qualche buon consiglio qualche ricettina da consigliarmi che può essere sulla carne sui legumi sulla pasta quello che più preferite sarò veramente contenta di seguirla e provarla ma nel momento in cui dovessi trovare dei commenti un po' meno diciamo educati e gentili verranno rimossi detto questo ragazzi questa settimana ho fatto due anzi addirittura tre torte perché a scuola c'è il progetto merenda sana quindi Alex sta portando a scuola quasi tutti i giorni una fetta di dolce fatto in casa mio marito devo dire che questa settimana dopo cena quindi una volta tornato a casa dal lavoro dopo cena ha fatto diciamo come dice lui la scodella di latte con le torte quindi questa settimana ne ho fatte tre credo di avervi messo le clip di tutte e tre anche se comunque più o meno era più o meno sempre la stessa torta quindi ciambellone o torta paradiso con all'interno lo yogurt era un po che non facevo torte e quindi passiamo da dei periodi in cui magari ne faccio pochi a periodi in cui ne faccio veramente tante ovviamente cerco di soddisfare le richieste e le preferenze della famiglia spero veramente che questa tipologia di video vi piaccia vi possa dare qualche piccolo spunto qualche consiglio io per prima ribadisco che creo questi video perché mi piace condividere allo stesso tempo ricevere consigli di provare nuove ricette detto questo ragazzi io vi abbraccio vi mando un bacio enorme spero che il video vi piaccia e ci vediamo poi nel prossimo vlog un abbraccio un abbraccio You're a dream that I could finally see I just want you to always be, to always be I just want you to always be, to always be on my right Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.